Siamo qui con Matteo Salvini, come ci si sente a 18 anni ad essere la sostituzione decisiva per questa partita importantissima? Sicuramente sono felicissimo per me e per tutta la squadra perché ho fatto gol del 2-1, è stato importantissimo e anche in un momento comunque di difficoltà siamo riusciti a vincere questa partita. Che partita è stata? È stata una partita molto combattuta, loro comunque erano abbastanza organizzati ma noi siamo riusciti a riprenderla e è giusto che sia finita così e che abbiamo vinto noi. Durante le esultanze abbiamo visto Lady dal cielo, erano per Marco? Sì per Marco assolutamente, sì sì.